Cantavamo nel Tempio e dicevamo Benedetto colui che viene nel nome del Signore Hosanna nell'alto dei Cieli Beato che è integrale la sua vita Che cammina nella legge del Signore Beato che ha studiato i suoi insegnamenti E lo cerca con tutto il cuore I fanciulli cantavano nel Tempio e dicevano Benedetto colui che viene nel nome del Signore Hosanna nell'alto dei Cieli E lo promette certo in giustizie Che cammina nelle sue vie Tu hai cumulato i tuoi crescenti E che siamo osservati interamente I fanciulli cantavano nel Tempio e dicevano Benedetto colui che viene nel nome del Signore Benedetto colui che viene nel Tempio e dicevano Benedetto colui che viene nel Tempio e dicevano Benedetto colui che viene nel Tempio e dicevano Chi 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 viene nel Tempio e dicevano Benedetto colui che viene nel Tempio e dicevano Chi 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 viene nel Tempio e dicevano Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come è reale al principio e ora e sempre Dei secoli, dei secoli, ammé Benedetto colui che viene nel nome del Signore Hosanna, Hosanna, Nellanto dei Ciemi Gesù a Floreto gibis Chiares 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 Grazie a tutti. 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 Ecco figlia di Sion, il tuo re. Ecco figlia di Sion, il tuo re. Grazie a tutti. 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 fu glorificato, si ricordarono che di Lui erano state scritte queste cose e che a Lui essi le avevano fatte. Parola del Signore. 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 è chiamata ad essere il cuore credente dell'Europa e voi vedete quanto l'Europa abbia bisogno di fede. Speriamo di essere degni di questa missione. Ma torniamo ora alla folla acclamante di Gerusalemme. Essa guarda a Gesù come a un re, un re guerriero, un messia che avrebbe finalmente liberato la nazione di Israele dal dominio romano. Invece Gesù cavalca un asinello. Il cavallo era la cavalcatura propria del re durante la guerra, ma l'asino lo era nel tempo della pace. Con questa scelta Gesù sconvolge questa loro immagine guerriera di dominio. Il suo regno sarà di altra natura. Come sarà? Domandiamoci. Per capirlo, già le preghiere di introduzione alla processione, ma ancora più il prefazio, ci offre un prezioso suggerimento. Gesù ci dice, tu hai mandato in questo mondo Gesù, tuo figlio, a salvarci. Ecco la prima questione. A scioglierci dal limite della fragilità creaturale e dalla ferita del peccato. Ma come ci hai voluto salvare? Gesù, abbassandosi fino a noi e condividendo il dolore umano, abbassandosi per condividere il dolore umano, risolleva fino a te la nostra vita. Non c'è solo gloria. Non c'è solo osanna in questa santa liturgia. Non si comprende a fondo l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme se non si vive questa festa eucaristica delle palme come una introduzione completa a tutti gli aspetti della settimana santa, fatta di passione, di morte e di resurrezione di nostro Signore Gesù. inizia quindi, dicevamo, la settimana più importante dell'anno, decisiva per noi cristiani, ma oggettivamente importante per tutti gli uomini di tutte le religioni, di tutte le culture, anche per chi dice di non poter o di non dover credere. E noi sappiamo, ecco il motivo per cui siamo qui convenuti nel nostro Duomo, che la liturgia altro non fa se rendere attuali i fatti della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. I fatti della storia della nostra salvezza, della salvezza offerta a tutta l'umanità. E in effetti la celebrazione eucaristica offre quei fatti a ciascuno di noi, alla nostra libertà, perché li faccia propri. L'epistola di oggi è un celebre inno a Cristo, che era probabilmente in uso nelle liturgie delle comunità dell'Asia. Paolo lo inserisce nella sua lettera ai Colossesi. Ebbene, se noi lo meditiamo attentamente, vediamo che questo inno spiega il significato del trionfo di Gesù, considerandolo in tutti i suoi aspetti. Non soltanto nell'aspetto dell'osanna del popolo, che certamente è un anticipo della sua gloria di risorto. L'inno è centrato intorno ad una affermazione. Parla del primato di Cristo su tutte le cose. Il primato di Cristo su tutte le cose. Chiediamoci, che cos'è questo essere primo, questo primato? Perché Gesù è più importante di tutto? Risponde lo stesso inno, perché in lui sussistono tutte le cose. Cioè tutte le cose sono mantenute nell'essere, nella realtà, perché sono state create in lui e in vista di lui. Tutto, ma anzitutto ogni uomo e ogni donna, ognuno di noi. Noi abbiamo in Gesù la nostra consistenza. E poi tutta la realtà nella quale noi ci muoviamo e siamo, ha in Gesù la propria consistenza. E la conferma di questo, secondo il nostro inno, è la risurrezione di Gesù, il primogenito risorto dai morti, caparra e garanzia della nostra personale risurrezione, caparra e garanzia per chi dice di sì a lui, che rivedremo tutti i nostri cari passati all'altra riva. Allora capiamo perché Gesù è il primo, perché riconcilia alla sua persona tutte le cose, vince rotture, divisioni, estraneità, separatezze. Dice infatti l'inno, è piaciuto a Dio che abiti in lui tutta la pienezza, ecco il primato, e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate, ecco la grande parola della Pasqua, riconciliate tutte le cose avendo pacificato con il sangue della sua croce, sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Cioè tutto. Gesù, il Messia, ci riconcilia perché ci dona la sua persona. Il suo cuore si apre alla nostra miseria. Egli è la misericordia vivente. E per questo possiamo sperare. Non c'è parola più adeguata la Pasqua, più che mai necessaria nei nostri tempi, della parola speranza. Speriamo infatti che egli ci usi la sua misericordia. Come ci ha ricordato Papa Francesco in una delle sue prime bellissime affermazioni. Il Signore non si stanca mai di perdonare, ecco la misericordia. Mai siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono. Se lui ci riscatta, ci riconcilia, peccatori pentiti, se si rallegra di più per un peccatore pentito che per 99 giusti a cui pentirsi non serve, allora dobbiamo accostarci, fratelli e sorelle, con un atto di semplice libertà in questi tempi al sacramento della riconciliazione, perché vogliamo toccare con mano che Gesù è la nostra Pasqua, è la nostra speranza già presente e che ci apre con serenità al futuro nonostante i tempi travagliati. Ma torniamo ancora una volta brevemente all'inno dell'Epistola per comprendere bene come ci ha insegnato il prefazio il senso vero dell'osanna del popolo di Gerusalemme. Dice l'inno, Gesù ci ha pacificato con il sangue della sua croce. Domandiamoci, sorelle e fratelli, con franchezza, cominciando da me, abbiamo noi il coraggio di prendere sul serio questa affermazione, ci ha pacificato con il sangue della sua croce, donando da innocente assoluto la sua vita per noi. Abbiamo il coraggio di contemplare il crocifisso prendendolo fisicamente in mano. O anche noi, come la folla di quel giorno, ci accontentiamo dell'immagine di un Messia mondano, un Messia onnipotente che eviti e ci eviti di passare dal Golgotha. Eppure, se guardiamo la nostra esperienza di uomini e di donne, noi sappiamo, tocchiamo con mano che nella vita gioia e dolore sono intrecciati in modo indisgiungibile, come dice il grande scrittore francese Claudel, la vita, la vita, chi la conosce sa che gioia e dolore in parti uguali la compongono. La fede, la fede illumina questa universale esperienza umana mostrandoci come nel Signore Gesù la croce è reale, ma è un passaggio, certo un passaggio obbligato, ma è un passaggio, una condizione alla risurrezione. Non ci conduce al nulla la croce. La prova nella vita, il sacrificio della vita, il dolore nella vita non ci porta al niente, la morte non ci portano al niente, ma ci portano alla risurrezione. In Gesù l'elevazione sulla croce è inseparabile dalla esaltazione nella gloria della risurrezione. Così è anche per noi poveri uomini, ma proprio qui sta la nostra dignità di uomini consapevoli della loro natura e del loro destino, uomini liberi perché sanno accettare tutti gli aspetti della vita, le ombre e le luci, appoggiandosi a Lui con la fede e quindi spalancati dalla misericordia del suo amore a una speranza affidabili. Ma facciamo fatica a capire, il Vangelo ce lo dice, anche i suoi lo capirono dopo la discesa dello Spirito Santo. Sul momento non compresero. L'episodio dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, proprio perché è assunto nel suo pieno valore, che comprende la croce in vista della risurrezione, ci dice allora, questa è la grande parola che dobbiamo trattenere in questa settimana, ci dice che per tutte le donne e per tutti gli uomini c'è Cristo, speranza nostra, speranza nostra. In modo particolare lo dici a quanti sono nella prova fisica o morale. E allora con le opere di misericordia, corporali e spirituali, teniamo nel cuore in questa settimana santa i malati, i moribondi, i carcerati, gli immigrati, gli smarriti, soprattutto se giovani, i poveri, gli emarginati di ogni sorta. Cerchiamo di essere ospitali con loro, possano sentire attraverso di noi l'eco del Dio misericordioso che riconcilia e ci dà speranza. Un'ultima parola sulla lettura. Dice il profeta, l'arco di guerra sarà spezzato, egli annuncerà la pace. La pace, frutto eminente della morte e risurrezione del nostro amato salvatore. La pace, a cui tutti gli uomini anelano ma che non sappiamo attuare con le nostre forze, diventa possibile per lui, per ogni persona, per ogni famiglia, per ogni paese, per ogni popolo, per tutto il mondo, se gli uomini accettano di mettersi con umiltà sulla strada che lui ha percorso. E qui, carissimi, la nostra supplica al Signore della pace non può non avere nel cuore le tragiche situazioni di guerra e di violenza che insanguinano il mondo. E in particolare vogliamo partecipare al dolore dei cristiani martirizzati mentre partecipavano alla Santa Messa. Quale sfida, quale provocazione al nostro modo di partecipare all'Eucaristia, spesso esteriore e superficiale, carico di ripetitività e di abitudine. diventeremo operatori di pace solo immedesimandoci con lui nella fede e nella pratica della vita cristiana. Lui che è l'autentico operatore della pace. E come? Come ci farà dire l'orazione a conclusione della liturgia della parola. Dice, a noi che innalziamo ulivi e palme nel giorno del trionfo di Cristo, dona di portare frutti di opere giuste in perenne comunione con lui. La comunione eucaristica, che riceveremo fra poco, o la comunione spirituale, con lui ci consente di portare frutti di opere giuste. Questo domandiamo al Signore. Allora inoltriamoci in questa settimana la più importante dell'anno con fede. e per vivere la fede guardiamo a Maria, Madre dolorosa e Madre gloriosa. Amen. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci alziamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fratelli e sorelle, in Cristo che dona a se stesso il Padre ci ha a rinforo, reso partecipi della sua stessa vita. Rinnovati nella fede, eleviamo le nostre invocazioni. Accompagna con mano potente il tuo popolo che entra nella settimana autentica. Assisti con la forza del tuo Spirito il nostro Papa Francesco, il nostro Arcivescovo Angelo e tutti i Ministri del Vangelo. Accogli nella tua tenerezza il grido dei poveri e il gemito dei sofferenti. Ascolta nella tua misericordia l'anelito di pace di tutte le genti. Accresci nella partecipazione ai Santi Misteri la nostra fragile fede. Accogli Dio misericordioso la nostra preghiera. Aumenta la fede di chi spera in te. A noi che innalziamo ulivi e palme nel giorno del trionfo di Cristo, dona di portare frutti di opere giuste, in perenne comunione con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Ammin. Secondo l'ammonimento del Signore e prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Ci sediamo. Un audito dimalare, scambiamoci un segno che si adulti all'altare, scambiamoci un segno di pace. E quindi alla partecipare susurrabbingo i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Salve il re, il re e l'armonia. 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 Salve 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 il re e l'armonia. Ci alziamo. Salve il re. Salve il re e l'armonia. Salve il re, il re... Salve il re, il re... Salve il re, il re... Salve il re... Salve il re, il re... Salve 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 il re... in comunione con tutta la Chiesa Cattolica professiamo la nostra fede. Grazie a tutti. 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 Santo, Santo, Santo e Signore, Dio dell'universo, Dio dell'universo, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.